Buongiorno a tutti. Benvenuti nel modulo Lina risponde 17. Oggi vi leggo il primo testo della Biati, lezione 65. Il testo che si chiama Tan Chen Hu, che vuol dire parlare di come rivolgersi alle persone. Ho una domanda per te e vorrei chiederti un consiglio. Yosun ma nidiu šoba, pubi kè qì, va bene chiedimi non fare complimenti. Io devo andare alla casa di insegnante Liu come ospite Come sappiamo, facere ospite Invece invitare era cinque Dice, io non ho mai visto la sua moglie Ma quando la vedo, quando la incontro, come la devo chiamare? Come mi devo rivolgere a lei? Dice, questo è un problema molto interessante Ho paura che anche io non possa darti una risposta soddisfacente Allora, prima, nei vecchi tempi, chiamavano le mogli dell'insegnante Questo è un appellativo usato un tempo per rivolgersi alla moglie di un insegnante Allora, na,我可以 chiamata Liu Shumu la Allora anche io la posso chiamare così, Liu Shumu Ma però, questo appellativo oggi la grande maggioranza delle persone non lo usa più Se anche lei, la moglie dell'insegnante, insegnasse come lavoro Allora sarebbe più facile Sarebbe più facile E così dice Allora, veramente, così posso chiamarla nello stesso modo come chiamo l'insegnante Lau Shumu E poi segue la domanda Dice, se anche Ma spero se lei fa un altro tipo di lavoro Secondo me, anche se fa un altro lavoro Chiamarla Lau Shumu Come chiami anche il tuo maestro Non c'è niente di male Lau Shumu Dice, rivolgersi a qualcuno chiamandolo Lau Shumu Oggi come oggi, nel rispetto di prima E' usato molto più ampiamente Allora, mi vuoi dire che a parte l'insegnante che lo chiamo Lau Shumu Posso anche rivolgermi alle altre persone nello stesso modo Vero? Nè vero? Nelle scuole, a parte l'insegnante Di rivolgerti a qualsiasi altro tipo di impiegati pubblici O responsabili del personale Sempre puoi chiamarli come l'insegnante E cioè Lau Shumu Infatti, in Cina, quando sei Nelle uffici della scuola Tutti si chiamano Lau Shumu A parte quelli che puliscono Che quasi non si vedono Non parli con loro Allora E fuori dalla scuola? Era la domanda, no? Nella società, nelle certe situazioni Che sono collegate con l'attività sociale Ti puoi rivolgere alle persone Che hanno conoscenza ed esperienza Nello stesso modo Con Lau Shumu Da noi, parla in Cina In certe trasmissioni televisive Molto spesso si rivolgono alle persone Con lo stesso appellativo Lau Shumu È vero Per esempio, in questa trasmissione Dove si incontrano maschi e femmine Che raccontano se stessi Che è molto interessante Chiamano quelli che fanno Conferenziere Che conducono la trasmissione Lau Shumu Ok Chen Hu Wen Ji Due uomene Wai Guo Ren Lai Shuo Tin Zong Yau Da Da noi Il problema del rivolgersi agli altri Per noi stranieri Pare molto importante Zai wai bian Wotin Dao Guo Yau Ren Doi Nhu Fu Wu Yuan Nhu Shou Hou Yuan Chen Xiao Zie Chen Xiao Zie Zhege Chen Hu Womene Nguyen Ma Quando sono fuori Io posso sentire Ho sentito dire Come si rivolgono gli altri Alle cameriere Oppure alle commesse E le chiamano Signorina Xiao Zie Anche noi possiamo usare Questo operativo Vero Xiao Zie Fu Ren Sian Shen Nhu Shou Deng Chen Hu Yijian Yipan O Zai Wai Ziao Chan He Yong He Yong Sian Zai You Yu Duei Wai Kai Fan Hai Wai Lai Da Ren Yue Lai Yue Duo So Yu Zai Yixie Da Fan Dian Da Shan Chan Yue Kai She Yong Chi Laila Allora Qua dice così Signorina Ke Xiao Zie Signora Fu Ren Signor Sian Shen Un altro Modo di dire Signora Nhu Shih E così via Chiamare così Prima si faceva Nelle affari esteri Nella diplomazia Si usavano così Adesso A causa Dell'apertura Verso l'estero La gente Che arriva Dall'oltre mare E sempre di più E sempre di più E di più E allora In alcuni grandi alberghi Grandi centri commerciali Hanno cominciato a usare Anche questi appellativi Giang Guoren Sì, è vero, ma dobbiamo vedere a chi lo dicono, a chi ti rivolgi. Per esempio, ai camerieri, come essi, si rivolgono con Shifu. Shifu sarebbe un mastro, appellativo per un lavoratore qualificato e sono piuttosto numerosi quelli che lo usano. Attenzione a Tongji, che vuol dire anche omosessuale. Nella Zanichiele potete non trovarlo, ma comunque c'è nel dizionario di Pleco, potete andare a controllare. Shifu, non era appellativo per quelli che lavorano in fabbrica. Prima era così. Adesso si usa per rivolgersi agli autisti, comessi, camerieri e così via. E tutti li puoi chiamare Shifu, Mastro. Se devi chiedere qualcuno sulla strada e se non sai che specialità ha, come ti rivolgeresti? È abbastanza facile. Puoi usare uno, Lao Zha, che si tradurrebbe Mi scusi, per favore. Chi Wen, scusi, posso chiedere. Gen Ninh Da Ti Nisiar, vorrei chiederle una domanda, per favore. Di seguito puoi chiedere quello che ti interessa. Per bambini e le persone veche ci sarà qualche appellativo speciale. Per bambini ti puoi rivolgere con Piccolo amico, 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 piccolo amico. Per persone vecchie puoi rivolgersi con lao xian shen Vecchio signore Oppure lao da ye Che è un modo di rivolgersi familiare Zio Forma educata per rivolgersi ad un uomo anziano Lao da ma sarebbe la zia Ok Ma quanti modi di rivolgersi Ma quanti situazioni diversi Ma quanto è complicato C'è un modo di rivolgersi Ma quanti modi di rivolgersi Ma quanti situazioni diversi Ma quanto è complicato Il problema di rivolgersi Rivolgersi alle persone E in stretto collegamento Con lo sviluppo della società Però devi chiedere tanto Ricordarti tanto Capire altrettanto Dopodiché sicuramente potrai arrivare A padroneggiare questi appellativi E con questo vi saluto E vi do Vi auguro una buona giornata Alla prossima Zai zian